Il suono del pane fresco di Pan de Fra, tagliato al coltello sul bancone, si è meritato un posto nella guida del Gambero Rosso. Pane e Panettieri d'Italia 2025, che da sei edizioni è la bussola per gli amanti del pane buono. Ci hanno premiato per la qualità sicuramente del prodotto, per i valori che porta all'interno e per probabilmente la visione della panificazione del futuro. Una qualifica d'eccellenza, quella Tre Pani, che Francesca, la titolare del forno di Senigallia, ha ottenuto perché utilizza i grani locali, porta valore al territorio e racconta con il suo filone di pane la storia della campagna marchigiana. Ho realizzato che le Marche sono una delle regioni che produce più grano in Italia e ho detto perché devo andarlo a prendere da un'altra parte, qua ce n'è a sufficienza e voglio parlare di questo e di chi lo fa, di chi lo coltiva. Senza gli agricoltori e i mugnai che stanno su questo territorio non faremo niente. Un approccio con il pane quasi sartoriale, perché ogni grano ha un suo modo per essere valorizzato, un'arte bianca che premia il palato. La conferma arriva nel più alto riconoscimento conferito dalla guida che Pandefra si aggiudica per il sesto anno consecutivo. Il premio ovviamente è una grande soddisfazione che conferma tutti i sacrifici.